E' stato svelato l'arcano dopo due giorni di buio e di incertezza e arriva il parere del segretario generale, anzi dopo due giorni arriva il parere, due giorni, della segretaria generale Rita Lanzalaco sulla vicenda che riguarda la surroga del consigliere dimissionario di Forza Italia, Davide Mirisola. Il suo successore sarà Alessandro Maira, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia. Le voci di corridoio parlavano di impossibilità di surroga perché non c'erano i tempi tecnici, cinque giorni dicono che servissero. Addirittura si era parlato di obbligatorietà di un consiglio ordinario perché quello di domani sarà straordinario per procedere all'atto di surroga e poi ancora che il consiglio straordinario si sarebbe potuto cerebrare lo stesso ma senza possibilità di voto poiché il plenum non era completo. Assurdità della mancanza di conoscenza del regolamento. Impossibile convocare un consiglio senza plenum, fuori da ogni regola. Anche le nostre fonti autorevoli sostenevano l'assurdità di tali applicazioni normative inesistenti. Chi il regolamento del consiglio lo conosce non ha necessità di due giorni per formulare un parere. Chi ricorda i vecchi segretari generali ha sicuramente memoria del fatto che i codici e le normative erano solo volumi da arredamento per la scrivania, tutto in testa, tutto a mente. È finito il tempo in cui i sindaci e gli assessori si scrivevano le delibere a mano per velocizzare la lentezza pachilermica della burocrazia che ormai è diventata la carceriera della politica. È finito il tempo in cui i consiglieri comunali conoscevano il regolamento del civico consesso ammenadito mettendo a volte anche in difficoltà l'amministrazione attiva e di burocrati. E se la politica si rimettesse a studiare norme e regolamenti in fondo sarebbe tutto riguadagnato, tempo, denaro e soprattutto immagine. Per ciò che riguarda il consiglio adesso il primo degli eletti sarà Calogiora Dornetto eletto nelle liste di Forza Italia con 584 voti. L'importanza del più anziano in voti non è data tanto dal primato che in politico ovviamente è il suo valore ma quanto dal fatto che il primo eletto è il consigliere proposto a sostituire il presidente del consiglio comunale in seduta in caso di assenza.